Porto, aeroporto, infrastrutture, volani di sviluppo del quale si è parlato nell'appuntamento presso il porticciolo turistico Marina di Brindisi in occasione della festa di sviluppo e lavoro. Presente alla conferenza l'anima dell'associazione Giovanni Brigante, il consigliere regionale Fabiana Amati ed il presidente di aeroporti di Puglia Domenico Di Paola. Io credo che non ci può essere il sviluppo di un territorio se non si utilizzano le risorse naturali più importanti e noi abbiamo il porto e l'aeroporto che costituiscono per noi un'occasione ma questa opportunità deve essere utilizzata. L'appello che io lancio e la mia associazione lancia, visto che ci sono tutti i rappresentanti istituzionali, è che si possa sinergicamente costruire un tavolo all'interno del quale o attorno al quale costruire il progetto per il rilancio definitivo del porto e dell'aeroporto e della logistica perché senza la quale non si va da nessuna parte. Un incontro che ha fatto emergere anche alcuni dati significativi, mettendo in risalto l'importanza di una visione sinergica tra istituzioni, cittadini e chiunque possa dare il proprio apporto alla crescita delle infrastrutture a Brindisi. Questo è compito ovviamente delle autorità locali, le quali devono dare un'indicazione di prospettiva sul futuro, anche perché siamo convinti che i cittadini che vivono contesti territoriali sono quelli che conoscono meglio le loro esigenze e devono presentarli a chi deve nel paradigma del procedimento amministrativo dare il proprio consenso. Quindi siamo al fondo, c'è sempre l'impegno delle amministrazioni comunali a proporre e a proporsi.